Ciao a tutti, oggi nuovo video recensione sui prodotti Omia e bensì Omia i prodotti che ho utilizzato finora che vi consiglio partiamo dal primo, questa è già la seconda confezione che ricompro, forse ne comprerò anche un'altra è il sapone non sapone ecopilogico mani in viso all'aloe vera, era stato consigliato in un video da De Daireo Valessio, non mi ricordo, mi sembra di sì, che lei lo usava per pulire il viso pulisce perfettamente il viso, pulisce perfettamente le mani, strocca anche il trucco, io ve lo consiglio ha un prezzo medio basso, è di facile riperibilità e ha un profumo buonissimo poi all'aloe, io adoro l'aloe, soprattutto della linea Omia, sempre parlando di Omia detergente viso, ecopilogico, idratante, equilibrante, viso e occhi della Omia sempre linea, ciao ripeto sempre linea all'aloe vieni qua scusate ma il cane chiede attenzione eccolo qua Omia detergente viso, detergente equilibrante è buonissimo, veramente buono ha un'attima perfumazione, pulisce e detergente perfettamente il viso non ve lo secca, non ve lo irrita, è fantastico, mi piace un sacco ho provato anche la crema viso, viso, ecobiologica, idratante, equilibrante, anti lucidità, non l'avevo letto l'aloe vera mi piace un sacco io la uso alla sera però se è anti lucidità potrei usarla come skin care del mattino io ve la consiglio perché è molto idratante però non rende grassa la pelle però ha una consistenza un pochino granulosa non so se è da massaggiare di più sul viso però è un po' granulosa però mi piace molto l'ultimo prodottino è il siroviso echipodologico lifting immediato con enzima Q10 all'oledergan l'aveva fatto vedere The Lady qui su youtube che vi mando un grosso bacio e un saluto l'aveva fatto vedere in un video qualche anno fa siroviso Q10 mi piace molto è della linea all'oledergan di Omia perché Omia ha diverse linee anche per quanto riguarda il lavaggio cioè per i capelli bagno e schiuma per il corpo bagno e schiuma per i capelli shampoo il balsamo ha molti prodotti per la cura della persona dove è la persona ok io adesso voglio andare a comprare lo scrub viso assolutamente perché mi piace molto e vi consiglio Omia ovviamente sì perché Omia è veramente una linea ecobiologica è cruelty free se non mi sbaglio certificato ICEA è senza nickel ovviamente si è prodotto testato nickel chrome cobalto e è cruelty free si ha tutte le certificazioni possibili immaginabili mi piace molto è di facile reperibilità sono prodotti ottimi a un prezzo contenuto quindi io questi quattro prodotti ve li consiglio lasciate un like e un commento iscrivetevi al canale per supportarmi fatemi sapere se conoscevate Omia se l'andete a festare se ne avevate sentito parlare fatemi sapere qualcosa anche voi e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.